Salve, sono Gabri Costa ragazzi. Visto che abbiamo Crash Bandicoot and Sane Trilogy, in questo Crash Bandicoot 2 vi insegnerò come sconfiggere Ripper Raw, che è il primo boss. Lo affrontiamo in questa biblioteca a Quaglia. Se non avete notato Ripper Raw è travestito da professore. Voi dovete fare attenzione perché Ripper Raw, rispetto al primo gioco, è ancora più pericoloso, sul pavimento fa le casse TNT e poi fa le casse di nitro. Voi dovete colpirlo andestordito, agite. Quando fa tutte le casse di TNT e gli esplodono gli va via il travestimento, ma quando fa esplodere tutte le casse di nitro viene estordito. Però Ripper Raw è stupida usare la stessa tattica che lo fa fallire al nostro primo incontro, ma perché sconfiggerlo di nuovo? Ha avuto abbastanza di questo canguro completamente folle. Le sue braccia non si vedono, sono dentro alla camicia di forza. Se lo sconfiggerete guadagnerete un trofeo. È stato facile eliminarlo. E abbiamo sconfitto Ripper Raw. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Un bacione e una rivederci da Gabriel. Speriamo che mi avete seguito con attenzione.